E' una picciolina di due mesi e è arrivata a prendere un corredino nuovo. E' un corredino che abbiamo preso, che essendo bella doppia è resistente e si stifferanno prima i quadrati di averla che è attorizzato. E' un corredino che abbiamo preso il collare, questo, che praticamente è un uvo. E' un corredino che abbiamo preso il collare, se è ripiegato, e poi ha diverse attaccature, quindi può diventare anche più lunga e diventare una crema. Poi per farla divertere un po' abbiamo preso il collo di buone, sia almeno alla sera quando il collo e il collo guarda artiere, lei si tratta di una cosa. E di scatini perché è un po' allergico all'ora di cose degli decanerogenici. E poi non possiamo non darle le salviettine per farla profumare un po' al calco perché è il profumo che rimane di più ed è quello più buono secondo me. Allora gli ho consigliato questo. E noi siamo, è Stella a... Ciao, da piano gentile. Stella saluta a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Chi ti ha baciata? Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Abbiamo una patata. Abbiamo fatto una bella patata. Bellissima. Ok. Ok.